... ... ... ... ... ... ... Sì, questa mazzina verso le otto, quando noi abbiamo rigettato in mezzo alla strada le macerie, quando loro sono risaliti che il camion andavano sbottando il materiale. Quindi hanno levato la barricata insomma? La quarta mattina quando hanno portato la barricata, il filmato prima e quando sono ripassato. Ma poi cosa è passato dopo? Adesso si levano. Adesso ho due camion con filo stilato, tre gruppi elettrogeni con lampade e un muletto. Sì, l'hanno lasciato, sono passato i camion a ritorno, noi abbiamo rimasto tutte, non c'era un traffico di autobus. Ci sei lì? Dopo che passi il primo blindato puoi arrivare. Che hai dormito questa notte? Ma devono passare le merde stamattina. Merde! Sono fidostinato, pensiamo entriagliano. Guarda che schifo, porca. Adesso successivamente faccio il gruppo elettrogene che mi fai a un mulezzo. Militare. Alle forze, si deve davanti. In caso io vengo con loro se devo caricare il mio video, perchè io sono con il wifi. Siamo qui praticamente da un mese, stamattina a venire a sgombrare la barricata sono venuti. La cedera è il comune di insceni, quindi questa cosa è anche significativa. Hanno dovuto stare 80 persone, che probabilmente anche alla manifestazione c'erano 80 per lato lì, si compravano la barricata e tutti hanno una sorridentesi dignazzante. Quindi il lavoro del Consiglio Comunale da quanto tempo è stato? Da un mese. Pensavamo che potremmo far ricredere questa amministrazione. Evidentemente i mezzi erano del comune stamattina, i video lo dimostrano, quindi l'amministrazione ha dato un segnale, forse il segnale che ci serviva probabilmente. E contemporaneamente i due presidi qui al comune e lì alla base? Sono due presidi al comune e alla base, più si tenta di fare lavoro dentro la città, ma quando vengono a fare i blitz dovrebbero avertirci prima, sarebbe molto più semplice. Stamattina è stata sfondata la barricata per permettere il passaggio di 5 mezzi, se non sbaglio, americani, che uscirono dentro materiali che presumibilmente serviranno per continuare la costruzione del muso. Quindi chi ha fatto quest'atto si rende complice del passaggio di questi mezzi. Anche il comune di Niscemi? Anche il comune di Niscemi che l'ha abbattuta fisicamente con i propri dipendenti, con i propri mezzi. Soprattutto il comune di Niscemi, che da D'Adicos è raspettico, come minimo, che mandino le genie militari, ma il comune di Niscemi continua a fare il loro gioco evidentemente. e la voglia di darsi questa patina di credibilità di essere contro il muso. Adesso stiamo andando al cantiere Muos, dentro la base americana, per vedere se ci sono lavori in corso. E' lì che si casca l'acido. Perché questi, nonostante l'arrivo, che nonostante i ricorsi vinti, hanno continuato a lavorare. Tanto è vero che gli manca pochissimo, perché proprio installare queste parabole e poi questo sistema dovrebbe essere già efficace. Anche se hanno sfondato la barricata, comunque è rimasto il presidio la base? È di nostra proprietà, perché poco fa stavo dicendo che poi abbiamo deciso dato che ci hanno sgomberato nel primo sito dove eravamo, abbiamo deciso di comprarlo con pezzo di terreno. Certo. E praticamente abbiamo comprato questo terreno, abbiamo pagato un sacco di soldi, perché la gente ci specula su questo terreno, una volta che ti serve, insomma. abbiamo fatto una sottoscrizione nazionale e siamo riusciti a comprarlo. E praticamente lì non dovrebbero sgomberarci, in teoria. E' di proprietà bosa? E' proprietà bosa nostra. Però purtroppo... E' attivo il terreno? Si, c'è l'orto, ora poi te lo faccio vedere. E' attivo la base quindi? E' attivo, si si. Avevo capito attivo. Ok. E tu potresti darci, so di riprenderci simbolicamente chiaramente un territorio nostro che è passato, veramente non è passato alla marina statunitense perché è praticamente del ministero degli interni praticamente questo terreno, o della difesa non fa, il quale l'ha dato, incomodato, gratuito, alla marina americana, ma è comunque territorio italiano. e abbiamo deciso di riprenderci il nostro territorio. Ok. Una pagliacciata questa inizia. Comunque... Dio c'è... Questa è pure comunista. Ah, su qua non c'è dubbio. Pagherà... Pagherà tutto. Pagherà caro. Ora ci stiamo apriando verso... una riserva... C'è una... una bellissima riserva qua. Tu sei stato... qualche altra volta... Pagherà... T questions... Azzallari è un'escrivole. Azzallari è un'escrivole. Pagheràilt lle Mighty voir quattro troppo hinto dal non è non c'è l'entrata questo è il presidio che abbiamo acquistato abbiamo fatto una serie di attività tra cui il campeggio estivo adesso ad agosto questo è un terreno proprio attivo alla base quindi americana sì questo è una strada qua abbiamo una strada proprio di fronte di transito dei mezzi che portano i materiali l'abbiamo acquistato proprio per questo motivo per impedire il transito dei materiali in cui ci dicevano che praticamente ci hanno dato 2 milioni di dollari dice che cosa vi lamentate a fare ci hanno i scemi hanno dato 2 milioni di dollari c'è un milione di dollari lo sappiamo dove sono andato a finire sono andato a finire a delle ditte mafiose qua che hanno portato il caccio e struzzo le cose l'altro milione di dollari non siamo riusciti a capire a chi sono andato a finire ma sicuramente i catanesi a tutte queste perché qua c'è santa paola in mezzo la transizione che hanno fatto l'hanno fatto con la mafia ma è una storia vecchia dal 43 dallo sbarco che quest'anno abbiamo cercato di impedire quest'anno hanno fatto l'anniversario dello sbarco e noi siamo riusciti a fare un po di casino su questa storia grazie 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 grazie